Questo pomeriggio abbiamo inaugurato la mostra dedicata ai cannoni di Ponte Nossa. La mostra dal titolo Dal passato al presente, i cannoni di Nossa nella grande guerra, è dedicata ai nostri obici in occasione del restauro degli stessi da parte dell'amministrazione comunale di Ponte Nossa. La mostra, oltre ad avere uno spazio dedicato ad OCA, agli obici, prevede tutta una serie di fotografie, pannelli esplicativi e numerosi reperti storici che servono appunto a inquadrare il periodo storico in cui gli obici hanno operato. La mostra è stata organizzata col patrocinio del Comune di Nossa, dalla Biblioteca, in collaborazione col gruppo Alpini di Ponte Nossa, in associazione dei combattenti eredici, soprattutto con l'associazione storica Cimetrincee, che si occupa da sempre di valorizzare questo periodo storico. La mostra è molto interessante, molto bella, curata e durerà dal 13 al 27 aprile. Verrà tenuta aperta dai volontari della Biblioteca. Noi vi aspettiamo numerosi per visitarla e ricordiamo che è aperta anche alle scolaresche che vogliono farne richiesta. Per eventuali altre informazioni è possibile contattare la Biblioteca di Ponte Nossa attraverso il sito internet. Dunque, la mostra, organizzata in occasione della restituzione dei cannoni restaurati di Ponte Nossa, è strutturata attraverso una serie di pannelli con fotografie in gran parte originali ed inedite, perché provengono da fondi o collezioni private, che quindi non sono mai state pubblicate su testi o sui siti internet. E poi la mostra si sviluppa con una serie anche di uniformi e di equipaggiamenti originali d'epoca del regio esercito italiano e dell'impero austro-ungarico. Particolarmente interessante è la presenza di una mitragliatrice, ovviamente disattivata, austriaca, la famosa Schwarzlose, che era la regina dei campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Ci sono poi quattro manichini, tre equipaggiati con uniformi ed armamenti italiani ed un manichino con un uniforme e un equipaggiamento tutto austro-ungarico. Nelle due teche principali abbiamo un campionario invece di quello che era l'equipaggiamento caratteristico del Fante italiano e del Fante austriaco, per cui un fucile italiano, il famoso 91, e il fucile austriaco, lo Stair modello 95. Sempre per quanto riguarda i manichini bisogna segnalare la presenza di un bellissimo equipaggiamento da alpino, si tratta di un maresciallo degli alpini del settimo reggimento e anche il manichino strico è molto interessante perché presenta un uniforme di fine periodo del 1918, per cui molto rara, soprattutto nel mondo del collezionismo, un uniforme utilizzata soprattutto sulle piave, leggera, fatta di un mistolino e cotone, veniva utilizzata in ambienti molto caldi e affusi e risale proprio a quel periodo. C'è un'altra teca, un po' più piccola, dove sono presenti alcuni oggetti e alcuni equipaggiamenti che riguardano invece i due cannoni scoda che sono stati ristrutturati. È possibile vedere una granata scomposta e ovviamente isattivata ad uso didattico, alcune fotografie e un bellissimo puntatore ottico che veniva utilizzato sugli obici austriaci della Grande Guerra. Allora colgo l'occasione per ringraziare sia il gruppo della biblioteca che il gruppo che ha restito la mostra e arriva a dire che il nostro impegno economico che abbiamo messo per la sistemazione dei cannoni ci è sembrato la cosa importante per non trascindere a un valore che dà una vita che nel paese di Ponte Nossa c'è e quindi dato che pur in questi periodi dove i soldi non ce ne sono si voleva comunque mantenere e non lasciare andato questo patrimonio che dopo la guerra mondiale erano usciti i nostri a lasciare un segno del sacrificio di chi aveva dedicato la sua vita a queste cose. In ultimo invito naturalmente sia la popolazione di Ponte Nossa e non a visitare questa mostra perché visto che qualcuno si sacrifica è bello che anche qualcuno poi gli dia un valore a questi sacrifici.